ora il dubbio che potrebbe venire a molti è ma com'è possibile a me sembra che il cane capisca ciò che io dico capisca le indicazioni che gli do magari non tutte magari non quelle che tratterete dopo ma altre sì ad esempio se gli dico seduto a me sembra che il cane capisca infatti si siede bene dovete sapere che i comandi quindi le parole che noi utilizziamo inizialmente per un cane sono di fatto dei suoni cioè dei rumori che sentono ma non hanno un significato ben preciso i gesti invece sì ce l'hanno e poi nel corso della serata vedremo anche quale per farvi capire meglio immaginate per un attimo di sentire una persona che parla in una lingua straniera ad esempio in norvegese voi sentite perfettamente quello che sta dicendo magari intuite anche un po il tono di voce che emotività vivi vi suggerisce ma non sapete il significato di quella parola di quelle frasi che sta utilizzando quindi se quella persona che parla in norvegese vi sta chiedendo di alzarvi in piedi poi in realtà rimarrete seduti perché non avete capito che cosa dovete fare ecco sappiate che quello che vivono i nostri cani spesso è questo cioè sentono che noi parliamo capiscono che gli stiamo anche rivolgendo l'attenzione ma non sanno davvero che cosa gli stiamo chiedendo quindi come posso farmi alcuni direbbero ancora ascoltare ma cominciamo a cambiare terminologia come posso farmi capire dal mio cane grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti